Il 19 novembre 2019 è stato quotidiano in intervista al Giorgio Sindaco di Manfredonia Salvatore Zingarello, come risaputo dopo Mattinata, dopo Monte Sant'Angelo, negli scossi anni anche Manfredonia e Cilignola hanno restato stabilito, Manfredonia e Cilignola, l'affidamento per 18 mesi alla commissione di gestione straordinaria alla causa e allo scelimento del Consiglio Comunale per infiltrazione della criminalità. Il Consiglio Comunale di Manfredonia ricordiamo che è stato già sciolto nel maggio 2019 per dimissioni del Sineco, c'è stata la commissione di indagini, di iniziamento, si è analizzato un po' tanto, un po' tutto, collegamento diretti in diretti degli amministratori con figure collegate alla criminalità, la concessione di maniari, concessioni a 360 gradi, la richiesta di certificati di mafia, società interessate a servizio o meno, abusivismo edile, mercato ittico, partecipato eccetera. Per quanto riguarda invece la sua posizione, visto che la commissione ha analizzato Sindaco, Giunta, Consigliere, quindi a 360 gradi, quello che le viene contestato e riporto testualmente è appunto questo, che è la contiguità che appare inconfutabile tra lei e Giovanni Gaterino. Adesso in ragione c'è numerosi scontri. Giovanni Gaterino, per come riporta la commissione di indagini, è stato arrestato nell'ottobre 2018 perché è accusato di aver fatto parte e essere implicato nella stagione di San Marco, dove sono morte quattro persone, tra i quali Mario e Luciano Romito e a prescindere da questo è indicato come un soggetto di spicco della mafia carcanica. Io non ho mai negato di avere un rapporto con Caterino, quello che ho sempre detto, a differenza di ciò che ha scritto qualche quotidiano è che era un rapporto con un soggetto che non era pregiudicato, che a mio avviso nessuno minimamente immaginava potesse fare una cosa del genere e parliamo di un soggetto che oggi è un indagato per questo. Io non ho frequentato uno dei nomi noti dove quotidianamente, magari dalla stampa, dalle notizie, erano al vertice o vicini, quindi non ho frequentato un soggetto conosciuto. Ho frequentato un soggetto che nessuno, io dico nessuno, non soltanto io, si aspettava potesse commettere un atto di questo tipo e quindi dal mio punto di vista io non ho mai frequentato soggetti che appartenevano alla criminalità organizzata. All'indomani dell'ottobre dell'arresto di Caterino, anch'io sono rimasto stupito come tante altre persone a Manfredonia, in città, per quello che è successo. Quindi io da questo punto di vista non ho frequentato soggetti che fino a quel giorno facevano parte della criminalità organizzata. Certo, è stato implicato, adesso sul processo in corso a Foggia, per l'omicidio, per l'omicidio assaggio di San Marco. Però lì, come dire, l'oritea comunque è una persona totalmente abita da qualsiasi elementi di vita che ha abitato. Assolutamente sì, assolutamente sì. E posso chiedere come ha conosciuto? Allora, io, Giovanni Caterino lo conosco, abitavamo nello stesso quartiere, quindi da bambino. In più Giovanni Caterino è un parente di mia cognata, moglie di mio fratello Mino, famiglia squisita, persone che chi li conosce a Manfredonia, per giunta testimoni di Geova, al proposito di elezioni, cioè una famiglia che non vota, come è noto i testimoni di Geova non votano. Quindi persone, brava famiglia. Io conosco parenti di mia cognata, altri cugini che sono nelle forze dell'ordine, altri sono insegnanti, altri sono liberi professionisti, così via per gli altri parenti. Quindi io mai ad immaginare una cosa di questo tipo. Quindi dire... La produzione dell'identità lo indica come un elemento di spicco della comunità. Ecco, questo... E tu hai entrato nei contanari, io ho un ruolo... Questo io l'ho scoperto chiaramente dopo, se così fosse, l'ho scoperto dopo e non immaginavo minimamente una cosa del genere. Ecco perché se io avessi frequentato una persona che era risaputo che potesse far parte di certi ambienti, tranquillamente non mi sarei mica affatto, cioè o sono un pazzo che si fa foto, lo frequenta, ma non lo frequenta, lo frequenta in qualsiasi luogo pubblico, perché non è che ho avuto... O uno mi deve ritenere un folle che pur sapendo una cosa di questo tipo sorvolava, oppure probabilmente io, diciamo, dal canto mio, non avendo minimamente nessun sospetto, ho frequentato una persona come ne frequento tanti altri e fortunatamente di persone che conosci ne ho tante, ma non è che io posso rispondere di tutti i soggetti che conosco, io conosco le persone, ma non rispondo certamente del loro atteggiamento. Questa cosa potrebbe succedere a qualsiasi persona, o nuovamente a me domani mattina se uno... Però diciamo che io ci conosciamo, però non andiamo insieme, magari allo stadio, non ci facciamo le foto con la torta, non andiamo in un hotel, magari a tenere c'è la torta, nel senso c'è un rapporto comunque di amicizia, io ho detto che è sbagliato questo, comunque c'è un rapporto stretto, la stessa commissione poi dice, visto che l'ha detto che amici di famiglia sono legati anche quindi da quartiere, che anche dopo l'arresto comunque si dice, si ipotizza che il suo fratello avrebbe accompagnato la mamma a trovare il figlio per il carcere. C'è un rapporto di amicizia adesso a prescindere da... Chiaramente il rapporto con mio fratello è differente, nel senso che come ho detto prima è un parente di mia cognata, quindi il fatto che mio fratello in quei giorni successivi, perché il tutto si è scoperto poi man mano nei giorni, quando è successo l'arresto, poi dopo 48 ore, 56 ore si è iniziato a capire il perché, ha avuto questa enfasi anche mediatica a livello nazionale, ma le prime ore chiaramente non si... e nessuno di noi immaginava ci potesse essere una cosa così grave alle spalle, ecco perché alla fine il ragionamento è certo, mio fratello non ha... anche perché poi in sostanza accompagna la famiglia dai carabinieri, non è che mio fratello accompagna chissà dove, cioè li ha compati ai... no 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 per chiarire assolutamente... certo, i familiari chiaramente hanno accompagnato, c'era una necessità e quindi mio fratello accompagna, i genitori con cui, torno a ripetere, chi li conosce sa di che persone stiamo parlando, non stiamo parlando di una famiglia che aveva problemi in passato con la giustizia, allora qualcuno... noi parliamo di una famiglia di quelle normalissime, un padre che ha lavorato una vita nella mucca, fai lavoratori, persone per bene, garbate e chi li conosce lo sa che è così. In alcun modo crede che personaggi, persone, personaggi è brutto, che comunque poi sono dei risultati probabilmente, ipoteticamente, se vero o falso, o comunque sui ambienti della criminalità, questo si va a dimostrare, possono essere una base da punto di vista elettorale per essere un collegamento con determinate gruppi di persone che possono aiutarla per avere elettorale. Spesso si è detto, ho visto l'intervista a 360. Certo, certo, qualsiasi tipo di domanda, sono qui a rispondere a tutto. Grazie per questo, ho avuto dei numeri altissimi, altissima livello di voti, sento che erano fin troppo alti, allora qualcuno può dire, magari questa persona serviva, nella relazione si cita anche il suo fratello per rapporti di lavoro con un fratello di un'altra persona comunque legata alla criminalità, si dice che potrebbero essere base per portare tanti voti per le amministrative. Io parto dal presupposto che le foto che sono state mandate alla Prefettura con lettera anonima sono tranquillamente, le possiamo trovare sul mio profilo Facebook, foto che non ho mai cancellato e basta andare magari a guardarle tutte quelle foto, perché c'erano 300-400 persone e si può notare anche la qualità del voto rispetto a chi ha partecipato a quella festa. Poter immaginare o far pensare che quei voti, come se ne avessi presi 5 anni fa meno o addirittura 10 anni fa molto meno, io ho sempre avuto fortunatamente un grosso consenso. Basti dire che rispetto a Caterino mi viene in mente ad esempio che il 2018 Caterino ha votato 5 stelle, non ha votato certamente Salvatore Zingariello, ma lo ha fatto anche… quindi qual è il senso di immaginare e colpire una persona facendo capire che dietro c'è qualcosa? Il dubbio, ecco perché alcune volte, perché ho richiamato la contraddizione della commissione nel lavoro che ha fatto? Se per quasi un anno Caterino ha avuto intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, io ho avuto probabilmente il telefono sotto controllo, mio fratello ha avuto il telefono sotto controllo, io tengo a ribadire che se per quasi un anno si è potuto verificare quale poteva essere il rapporto e quale poteva essere il condizionamento, beh io ero solo ed esclusivamente speranzoso come ho detto, perché man mano che io leggevo gli articoli dei giornali, vedevo le date e vedevo le intercettazioni ambientali, quindi seguivano Caterino mi sono sempre più tranquillizzato, dice guardate a questo punto nel momento in cui stanno verificando e bene fanno, perché se c'è un minimo dubbio è bene che le autorità giudiziarie verificano il tutto, hanno potuto verificare che tipo di rapporto c'era e che tipo di condizionamento. Nessuno, perché dalla relazione non emerge nulla, ci poteva essere, perché poi conoscere una persona non significa condividere, sicuramente con Caterino io non ho mai condiviso la politica o l'azione amministrativa, potevamo parlare di… assolutamente, non sono… certo, ma come lo può essere qualsiasi altra persona che può magari condividere altro, ma non certamente la politica o non… non è che con lui… io il mio confronto politico lo faccio con i dirigenti di partito, con quelli della coalizione, con i consiglieri, non è certo con Caterino con cui io discuto di azioni amministrative e questo è… la commissione di indagine è stata sensibilizzata in comune proprio per questo, per verificare se ci fosse la pressione della dignità organizzata sull'andamento della pubblica amministrazione, quindi ti tiene che in alcun modo che lo può… assolutamente, io lo redadisco con fermezza… l'amministrazione in alcun caso fa appalti sui parenti del Caterino magari che sono legati più atti sui parenti, però pensiamo nel caso di Socatello che c'è… anche su questo, anche su mio fratello, io ho già detto che mio fratello ha avuto rapporti laborativi, lo dice, emerge nella relazione, ma emerge nella relazione che ha avuto solo rapporti lavorativi, è una delle imprese che ha lavorato con mio fratello, come tante altre, perché sembra che mio fratello aveva un'esclusiva, quando in realtà magari per chi fa l'attività imprenditoriale, oggi lo scavo me lo fa uno, domani me lo può fare qualcun altro, la carpenteria me la fa uno, domani me la fa qualcun altro, l'infissi me la fornitura di uno, domani di un altro, cioè nel mondo del lavoro esistono dei rapporti che sono prettamente commerciali e lavorativi, io tu mi presti un servizio, io ti ho sì, la questione finisce lì, è chiaro che il cognome della persona può essere, diciamo, motivo di osservazione, io anche lì sono contento che abbiano osservato e anche lì nonostante abbiano osservato, si è dimostrato, almeno le carte lo dicono, non io, non è la mia opinione, si dice che si parla solo di lavoro, questo è quello che emerge. Una volta dall'altra parte, facciamo stare i giornali, la parte di chi fa indagini, sicuramente la frequentazione dei rapporti di lavoro con persone, visto che lo sindaco dice, conosciamo un po' tanto questo territorio, quindi se io frequento rapporti di lavoro comunque con persone che in qualche modo sono legati a personaggi legati alla criminalità, non credo che questo accende i riflettori? Assolutamente sì, no, io innanzitutto credo che i riflettori siano stati accesi. Se il suo figlio avrebbe, gli direbbe qualcosa, sapendo come qualche personale se fosse solo un rapporto di amicizia, un rapporto di lavoro, professionale, non c'è il legito, favorirebbe un rapporto di amicizia? Assolutamente no, però torniamo sempre allo stesso ragionamento, se uno minimamente sospettava di una cosa del genere su Caterin, io non l'avrei frequentato, questo è un dato significativo e chiaramente spero che mio figlio non frequenti mai soggetti che delinquono, che poi sia addirittura della criminalità organizzata, chiaramente è ancora peggio, quindi il discorso è sapere o non sapere se il soggetto faceva azioni di questo tipo, questa è la differenza, ma torno a ripetere, questo può essere anche messo in discussione, ciò che non può essere messo in discussione è che effettivamente questo in nessun modo mi ha condizionato, poi i rapporti lavorativi di mio fratello, io non è che li conosco tutti, sono rapporti lavorativi di mio fratello, anche mio fratello, nonostante sia mio fratello, se per caso mio fratello mi avesse chiesto di fare qualcosa per qualche soggetto X, Y, anche soggetti che nulla hanno a che fare, dove c'è qualcosa di ombroso, è giusto che io ne paghi le conseguenze, ma nel momento in cui io non ho avuto nessun condizionamento, né da Caterino, né da mio fratello, né delle ditte che ipoteticamente lavorano con mio fratello, beh io lì mi sento un soggetto penalizzato, poi possiamo aver commesso mille altri errori da un punto di vista politico-amministrativo, sono pronto a rispondere a tutto, errori fatti, a chiedere scusa dove abbiamo sbagliato, ma certamente trovarsi in una situazione di questo tipo, essendo chiaramente, uso un termine innocente, nel senso non ho nessun tipo di legame con la criminalità organizzata, ma per me è una cosa schifosa, io l'ho sempre detto, per me la mafia è la cosa peggiore che ci possa essere, un'offesa peggiore di essere un mafioso a qualcuno non gliela si può dire, quindi da questo punto di vista uno come me chiaramente coinvolto in un ragionamento del genere, dove chiaramente a mia discolpa ho soltanto questi elementi, perché è chiaro che la commissione viene da fuori, l'omicidio di San Marco ha avuto, io non è che non lo comprendo, un'enfasi nazionale per quello che è successo, non c'è qualcosa che si sia deciso di intervenire perché si dovrebbe intervenire, proprio quella vicenda della stagia di San Marco, quello a sfinto lo Stato si deve venire a prescindere, anche perché è stato sviluppato, concordo con lei, quando la presenta i penali fino al quarto grado la banca da TSD che sicuramente non si va a utilizzare, sicuramente a divulgare, per come sono state collegate le cose, sono cose che si dovrebbero a prescindere, sciogliere, no, facciamo attenzione, questo è ciò che prevede la legge, la 143, che a titolo anche di prevenzione, la commissione può redigere e farsi un'idea e mettere nelle condizioni il prefetto prima, poi il ministero degli interni, poi nuovamente il prefetto e poi la presidenza del consiglio, può mettere nelle condizioni per poter valutare anche a titolo di precauzionale uno scioglimento del consiglio comunale, tant'è che anche la commissione che fa un buon lavoro perché è difficile ed è stato difficile anche per i tre commissari esaminare la documentazione, tutti gli atti delibere, determine e quant'altro dal 2010, un amole di lavoro imponente, importante, magari poi hanno dovuto prendere l'intercettazione che ha fatto la DDA perché chiaramente la questione della mafia Gargani che era sottoposta alla DDA, quindi un lavoro incrociato non è neanche semplice e facile per la commissione che non conosce il territorio, non conosce la città, viene qui e magari guarda che il vice sindaco conosce uno che ha partecipato o potrebbe aver partecipato qui chiaramente ad una strage, fa un attimo due conti dicendo qui che cosa c'è, quindi io comprendo, ciò che non comprendo è che dopo questo lavoro e magari si arrivi a questa conclusione, questo è quello che io metto in discussione. Poi ci sono tanti altri aspetti, tante altre questioni. Cioè l'intervento della strada di San Marco non si è pensato mai sciocco il comune? Io credo che senza la strada di San Marco a mio avviso avrebbe stato molto più difficile e credo che anche l'intervento dello Stato che oggi si sente, si percepisce, probabilmente avrebbe ritardato, ma questo non è una mia opinione così, nel senso che dopo quello che è successo a San Marco è stata intensificata la presenza e il lavoro delle forze dell'ordine che hanno portato a tanti risultati buoni, è arrivato anche un prefetto secondo me che ha il vestito anche cucito addosso per poter fare un'azione contro la criminalità organizzata e lo sta facendo, di qui poi a far sì che vengano sciolti i comuni io lì. Ricordiamo, non è solo il suo, anche se siete molto puntato, forse perché comunque Caterina è legato alla strada di San Marco, c'è il procedimento quindi fa più enfasi, però ci sono anche altri rappresentanti, voi siete rappresentanti delle istituzioni, un consigliere comunale, delle società, anche se non è un pregiudicato, ma è legato a una famiglia, c'è un altro assessore che è all'interno di una società che comunque in qualche modo ci sono delle persone che sono state accusate di riciclaggio da un'altra famiglia, quindi non è solo il caso del suo, anche se poi non ci fosse stato. Chiaro. E non ti sento, lì la invito sempre a guardare le cose dall'esterno, come se guardassi da Certo, quello che posso dire è questo, che io nonostante i tanti anni di amministrazione non mi sono né mai sentito condizionato né ho notato all'interno dell'amministrazione un qualsiasi forma di condizionamento, magari errori dettati da visione diversa, ma mai condizionato da nessuno, io questo lo tengo a ribadire perché anche negli altri colleghi, anche nel sindaco con cui non ho mai avuto grossi rapporti, non ho mai visto un condizionamento. E mi sarebbe anche come dice il prefetto Grassi che determinate famiglie hanno una gestione dell'economia in maniera indisturbata e poi alla fine se fosse... Questo detto così, il fatto che questo sia un territorio di mafia non è che è un che lo dico io, o lo dice, qui è palese, il fatto che sicuramente ci siano rapporti tra la criminalità organizzata e il tessuto sociale, nessuno lo mette in dubbio, nel senso che c'è la criminalità organizzata, quindi bisogna vedere come combatterla, ma se uno fa un ragionamento dicendo il comune, l'amministrazione ha avuto condizionamenti, io tengo a ribadire che no. Se poi uno decide di partire dall'amministrazione e quindi siccome c'è la mafia e siccome c'è un rapporto nel tessuto, io la prima cosa che faccio è sciolgo l'amministrazione e poi faccio tutto il resto, io posso anche immaginare e condividere un ragionamento del genere, ma che si dica questo, non si dica che gli amministratori venivano condizionati o addirittura eravamo... In che caso ci sarebbe stato il circondizionamento? Quando si può dire sì? Allora, se noi avessimo... Guardate, io in questi mesi, purtroppo devo dire la verità, ho iniziato a vedere gli altri comuni sciolti per mafia, perché chiaramente quando la cosa ti tocca e ti interessa. Lasciamo perdere adesso, ho già citato nel mio video il caso di Roma, dove è successo di tutto e di più, però io non voglio prendere il caso esagerato. Io ho visto comuni nel Casertano, nel Barese, dove c'erano veramente i condizionamenti, dove nella casa del boss ci decidevano gli appalti, si decideva il piano regolatore, dove c'erano delle prove tangibili del condizionamento mafioso. Io qui, onestamente, sentirmi dire che non ci sono elementi, ma che la politica è stata debole nel controllare e vigilare sulla macchina amministrativa, scusate, questa cosa a me dà enormemente... Ma non solo per una questione personale, perché noi potremmo decidere domani mattina di non fare più politica, lo potremmo decidere, dopo tanti anni lasciamo spazio forse a qualcun altro, è per la città. La città ha un'ombra di questo tipo addosso, a mio avviso è ingiustificata, anche perché non stiamo parlando di uno scioglimento del Consiglio Comunale dove magari si può arrivare ad una conclusione, debelliamo questa classe politica e chiudiamo la partita, stiamo parlando di un Consiglio Comunale dove un sindaco dimissionario si doveva lasciare la possibilità di rifare le elezioni, magari questa relazione poteva accompagnare anche chi doveva amministrare la città di Manfredonia, perché ci sono dei punti fondamentali che magari insieme alla Prefettura, insieme alle forze dell'ordine, cercare di guidare una situazione di questo tipo, laddove la Commissione ha ritenuto o ritiene che ci siano state delle debolezze, insieme, questo è quello che si dovrebbe fare, non certo quello di sciogliere un Consiglio Comunale, perché ipotizziamo se, e concludo, scusami, ipotizziamo che queste 3-4 questioni, al di là della questione rapporti, perché poi rapporto, l'avvocato, andrebbe chiarito forse anche da un punto di vista giuridico, nel senso, fare proprio delle norme precise e non lasciare discrezionalità, sul mercato ittico, sugli polder, sui comparti, situazioni… La Commissione dice che non avete sempre così che volontariamente, non avete voluto adeguare i cambi, che magari, siccome le sue Commissione dei Magnari, poi ci riportiamo a certe famiglie, ci riportiamo un'ora più avanti a chi è stato accusato, a chi è stato accusato, io vi siete incontrati una sera, lo immagino io, poi mi assumo la responsabilità, diciamo, ma siete qua, lascia stare, magari, rimandiamo, nel piano delle cose, rimandiamo, ha toccato, no, assolutamente, ha toccato due dei temi, un altro è stato quello dei tributi, che magari su questo vorrei anche parlare sulla questione dei tributi, ha toccato temi dove, io l'ho detto già, noi l'errore maggiore che abbiamo commesso, in particolar modo negli ultimi anni, è quello di avere una divergenza di opinioni, di non essere stato più un'amministrazione unita, ma magari molti la vedevano in un modo e molti la vedevano in un altro e alcune decisioni sono state condizionate, quello sì, da diverse opinioni, perché anche sul tema delle concessioni, sulla questione, assolutamente no, le dimissioni dell'assessore Rinaldi sono state dettate da un rapporto, forse consumato con il sindaco, ma assolutamente no, il problema è che su queste tematiche, le abbiamo affrontate anche in Consiglio Comunale, ci sono stati consiglieri che hanno fatto le proprie interrogazioni, non è semplice arrivare ad una conclusione se non c'è una visione, se non univoca almeno di maggioranza. Sì, possiamo dire che non sono stati resi questi provvedimenti perché non hanno dato fra di voi la questione, però per cercare di ingannare il tema, perché qualcuno ha detto c'è già un'amministrazione, ma non esiste, la discussione politica, mentre oggi il commissario è uno che può o potrebbe prendere delle decisioni autonomamente, la politica è un'altra cosa, la politica è fatta di condivisione, ci sono dei consiglieri comunali che devono votare o meno dei provvedimenti e devono essere fatti determinati passaggi, ci dobbiamo convincere prima noi, la classe di regia c'è, alcune volte su determinate questioni la tempistica è celere quando si è uniti, quando si è compatti, dove anche se una scelta è presa maggioranza si continua su quel percorso, diventa più complicata, tant'è che il Sindaco è arrivato a dimettersi, io mi sono dimesso proprio perché non avevamo la stessa visione, la responsabilità sia mia che sua è stata quella di dire guardate cerchiamo di ricompattarci e portiamo a termine questa esperienza mettendo al sicuro i conti del Comune di Manfredone, approvando, siamo rientrati con un documento sottoscritto nel mio partito dando queste motivazioni perché ci eravamo resi conto che non c'erano più le condizioni politiche per andare avanti.